serietà che si può dare agli italiani che ci guardano e che hanno bisogno di quella serietà e a tutti gli altri che sono interessati a sapere che cosa facciamo. Quindi grazie davvero al Ministro Giorgetti, al Vice Ministro Leo, ai miei due Vice Premier, grazie a tutto il Consiglio dei Ministri. Scusatemi se non posso rimanere, purtroppo noi abbiamo dovuto fare il Consiglio stamattina perché il Ministro Giorgetti deve partire per un importante, anche lui vertice internazionale, le cose si sono incastrate un po' così, però avete autorevolissime persone che risponderanno alle vostre domande. Grazie ancora, scusatemi.